L'inflazione negli Stati Uniti e la guerra alle porte dell'Europa sono gli argomenti che dominano sui mercati finanziari in questo periodo. L'economia americana presenta un livello di inflazione che molto probabilmente spingerà la Fed ad agire con maggior forza e maggior vigore nei prossimi mesi per contenere il rincaro dei prezzi e portarli in linea con il target di medio-lungo periodo. Questo perché negli Stati Uniti, oltre all'inflazione da materie prime che accomuna un po' tutto il resto del mondo, è molto forte il mercato del lavoro. Abbiamo una domanda che non si vedeva da decenni e di conseguenza un rincaro, aumenti salariali decisamente importanti considerati dalla Banca Centrale al di sopra di quel tasso compatibile con un'inflazione di medio-lungo periodo nell'ordine del 2-2,5%. Quindi quello che si attende nei mercati sono continui rialzi dei tassi da parte della Fed nei prossimi mesi con probabilmente rialzi anche dell'ordine dello 0,50 nei mesi a venire, con il delicato obiettivo di non frenare troppo la crescita economica e quindi evitare una recessione. In Europa invece la guerra in Ucraina ha portato gli analisti a rivedere le stime di crescita dal 4% al 3% su base annua per il 2022. Dopo un inizio d'anno finalmente è partito con il piede giusto dopo le difficoltà legate alla pandemia. Questo perché in Europa oltre ai rincari delle materie prime pesa molto la dipendenza dal gas russo e di conseguenza il rincaro dei prezzi dell'energia che probabilmente avranno effetti negativi sui consumi e in generale sugli utili aziendali anche se bisognerà attendere i prossimi mesi per quantificarne esattamente l'entità. Infine abbiamo la Cina, ancora alle prese con un rallentamento del settore immobiliare e soprattutto con dei nuovi lockdown. Anche se qui c'è da dire che sono in atto continui stimoli monetari che verosimilmente porteranno un'accelerazione nella seconda parte dell'anno una volta terminati i lockdown. Passando allora ai portafogli delle linee target quello che possiamo dire in generale è che stiamo approcciando questo periodo con un'esposizione agli attivi di rischio in generale più contenuta. Per fronteggiare l'impatto dei rialzi dei tassi e quindi l'impatto negativo su tutto il comparto obbligazionario il posizionamento è stato quello di avere una duration di portafoglio estremamente contenuta. Anche se a dire è il vero nelle ultime sedute visti i livelli raggiunti soprattutto sulle parti lunghe di curva tatticamente stiamo incrementando l'esposizione ai titoli di Stato mentre rimaniamo neutrali su tutto il comparto obbligazionario corporate in quanto gli spread creditizi rimangono decisamente compressi. Passando al mondo azionario anche qui direi un'esposizione più contenuta in generale rispetto a quella che avevamo ad inizio anno. Continuiamo a mantenere l'investimento in tematiche di lungo periodo quali i cambiamenti climatici piuttosto che il green deal europeo ma visto il tema geopolitico abbiamo deciso di ridurre l'esposizione all'Europa mentre rimaniamo più possibilisti sul mercato azionario cinese soprattutto nei prossimi mesi perché come detto qui è in corso a differenza della Fed dove è in corso una restrizione monetaria qui siamo rientrati in un ciclo più di espansione del credito i cui effetti positivi probabilmente si vedranno una volta terminati il lockdown. In generale però l'obiettivo è cercare di avere un portafoglio ben diversificato con titoli di qualità soprattutto con in grado di mantenere un buon dividendo quindi con dei buoni flussi di cassa per mantenere buoni dividendi anche in un contesto inflattivo incerto come quello attuale.